Siamo con Loris Tortori al termine di Feralpi Salò, Mantova 1-0, mezzo rigore prima, un rigore sacro santo, 5 minuti dalla fine, di fatto però hai servito comunque quello decisivo, ti lo sei procurato, la Feralpi Salò ha vinto e sono tre punti fondamentali. Sono felice proprio per i tre punti soprattutto perché così era una partita di un'importanza veramente unica, sappiamo che se avessimo pareggiato o perso sarebbe svanito il sogno playoff, quindi siamo contenti, sono contento per il rigore, siamo contenti per i tre punti, era fondamentale. Vincere era importante anche per arrivare con la testa giusta e soprattutto anche con la posizione di classifica più ottimale al match di Pordenone, una trasferta molto delicata, il Presidente l'ha definita una possibile impresa, ovviamente ci sono un paio e tre punti che sarebbero fondamentali sempre per l'obiettivo playoff. Sì, poi c'è da dire che noi con le squadre quelle di alta classifica comunque facciamo sempre partite importanti e quindi dovrà essere una partita importante perché sappiamo l'importanza proprio della gara, vincendo possiamo avvicinarci di un punto al Pordenone, quindi è veramente vitale la partita con il Pordenone di sabato. E poi ovviamente ci saranno altre quattro partite però chiaramente si considera partita per volta, una gara per volta, si pensa a Pordenone, è chiaro che questa vittoria dà forse ancora più morale per affrontare l'ultimo tour de force, chiamiamolo così. Sì, poi per come è venuta veramente bisogna dire che era una partita difficile, poi in dieci uomini quasi tutto il secondo tempo più 5-10 minuti del primo, quindi con questo caldo le energie sono state spese. Quindi ottenere una vittoria così alla fine ci dà veramente tanta fiducia per affrontare il Pordenone e quindi andiamo avanti così.